Ci sono alcune giostre pericolose, rotte. È un problema perché questi bambini non sanno anche dove andare e quindi ci crea un bel po' un disagio. È la preoccupazione di un padre che per far divertire il proprio figlio all'aria aperta e insieme agli altri bambini deve seguirlo passo dopo passo per evitare che salga su una giostrina rotta. Nei giardini del castello di Barletta c'è poco spazio per i bambini. Gli arredi urbani, spesso oggetto di vandalismo, sono pericolanti e a farne le spese sono proprio i più piccoli che non solo devono stare attenti quando giocano ma anche quando camminano nelle aree verdi. Con il bambino frequento da qualche mese, da un paio di mesi, queste giostrine sono sempre in questo stato. Quasi tutte le giostre sono rotte, da tante, pure sporca. È un po' pericoloso, anche buio, un po' di luce di più per noi nonni che vediamo i bambini dove vanno. Nonostante il caldo delle ultime settimane, la zona è comunque frequentata da mamma e papà non solo di Barletta ma anche di altre città. Veniamo ad Andrea perché il parco giochi di Andrea è chiuso tutte le mattine. Questo è aperto, qualche giostrina funziona e quindi ne insuffruiamo. Anche ad Andrea ci sarebbe bisogno di migliorarsi, di migliorare queste strutture. Durante l'estate, quando non si va a scuola, non possiamo privare i nostri bambini di un po' di svago, spiegano i genitori, anche se questo richiede un maggiore controllo. Più che per noi e anche per i bambini che non hanno già aree nelle quali poter passare del tempo, per noi, chiaramente, genitori è dover stare super attenti perché non sono in condizioni decenti. Questi sono posti dove dovrebbero proprio stare con altri bimbi. Dobbiamo stare più attenti.